Con il nuovo stabilimento si prepara a raddoppiare il fatturato? Eh sì, era ora perché sono quattro anni che siamo plafonati allo stesso valore, adesso finalmente con il nuovo stabilimento, due nuove linee, 10.000 metri quadri coperti, forse riusciremo a dare una svolta anche al nostro fatturato, un po' in Italia, ma soprattutto in mercati importanti ed emergenti per la pasta di qualità quali sono il Giappone e gli Stati Uniti.